Salve a tutti, benvenuti sul report Eventi Misteriosi. Ho deciso questa mattina di fare un approfondimento per quanto riguarda l'argomento sugli apporti. Premetto che io non voglio parlare di apporti esclusivamente in termini medianici, ma voglio focalizzare l'argomento nel senso del fenomeno stesso, non necessariamente legato allo spiritismo o corbelleria del genere. Del resto anche Ernesto Bozzano, che è stato uno dei più grandi studiosi degli argomenti di questi fenomeni. Lui non negava del tutto che, almeno per quanto riguarda quei fenomeni di apporti che avvenivano al buio nelle cosiddette sedute spiritiche, non ci fossero dei giochi di prestigio, dei trucchi. Lui comunque era uno studioso, non era uno scettico, ma non era nemmeno uno stupido. Perciò è interessante invece leggere a proposito di questo fenomeno degli apporti, addirittura degli asporti, che invece sono avvenuti in piena luce, dove quindi non c'è la possibilità del trucco facilitato dal buio. E vi vorrei leggere queste pagine. Allora, trattando dei fenomeni di apporto ed asporto ottenuti in piena luce, la prima considerazione che si affaccia alla mente, ecco, ingrandiamo un po', consiste nel fatto che precedettero nel tempo i fenomeni del genere ottenuti nell'oscurità. Questo è un dato molto importante, perché si pensa che questo fenomeno per la prima volta si sia registrato con la sperimentazione medianica, ma invece ne abbiamo documentazione ben prima, insomma. E in ciò, in quanto questi ultimi segnano l'inizio delle indagini sperimentali odierne, ovviamente quando l'articolo viene scritto siamo in piena epoca spiritista, quindi odierne significa 1930, per capirci. Laddove i primi si manifestarono spontaneamente, per quanto raramente, in ogni epoca della storia dei popoli. Questo è importantissimo. Come si realizzarono sempre, si realizzano anche odierneamente tra i popoli selvaggi. Quindi lui non... cioè, intende descrivere questo fenomeno come esistente dalla notte dei tempi in tutte le culture, come raro però. Mentre nella sperimentazione novecentesca, detta spiritica, sembra più un artificio, poco, vista anche la troppa frequenza dell'avvenimento. Fa questa distensione. È noto, inoltre, che i fenomeni di apporto ed asporto in piena luce furono sempre osservati con la relativa frequenza nelle manifestazioni delle cosiddette case infestate a svolgimento prevalentemente fisico, specialmente nella categoria delle manifestazioni designate con l'appellettico tedesco del cosiddetto fenomeno del poltergeist. Ricordiamo, poltergeist è un termine che significa spirito dispettoso. E qua, infatti, con i termini infestazione poltergeist si intende due manifestazioni paranormali differenti, che però hanno alcuni lati in comune. Entrambi, infatti, sono caratterizzati da fenomeni fisici, come rumori, spostamenti, lanci, deformazioni o sparizioni di oggetti, comparsa di acqua o altro ancora, ma nella prima possono esserci anche fenomeni visivi, come l'apparizione di figure umane più o meno definite. Sono diversi per la durata, perché i fenomeni infestatori possono verificarsi per anni, con intervalli variabili tra una manifestazione nell'altra. Quelli del poltergeist, invece, hanno breve durata da pochi giorni o qualche settimana. Altra differenza è che le infestazioni sono legate a un luogo, mentre i poltergeist hanno una persona di solito, un'adolescenza, una persona giovane con conflitti e problemi interiori risolti. Vabbè, ovviamente qua non c'è tutto il libro, c'è solo un estratto, perché qua rimanda al caso 25, che è di questo libro, che è Bozzana, Porti, e questo è solo un estratto. Andiamo più avanti. Quindi, è più specialmente nel gruppo denominato Sassaiuole, in cui sono frequenti i casi della penerazione delle pietre infestatorie, in ambienti ermeticamente chiusi. Ricordo in proposito che nel libro dei fenomeni di infestazione ebbi a citare casi veramente interessanti di Sassaiuole, cioè veri e propri lanci di Sassi, insomma, che penetravano in ambienti ermeticamente chiusi, in cui le pietre raccolte venivano riscontrate calde o caldissime addirittura, come si verifica nei fenomeni di apporti ottenuti sperimentalmente. Comunque non mi occuperò di Sassaiuole infestatorie, inizierò la mia classificazione con due casi di apporti ad asporti spontanei ottenuti in piena luce dai benemeriti precursori delle odierne discipline metapsichiche, quali indubbiamente sono gli antichi bistrattati magnetizzatori. Caso 18. Per quanto il caso del dottor Billot sia notissimo, questo dottor Billot era Guaylam Pascal Billot, medico che ha effettuato esperienze convengenti e sonnambuli, sonnambule anzi, di cui ha parlato la corrispondenza sul magnetismo vital, un articolo apparso a Parigi nel 1839. Interessante, quindi andiamo. Poi lui era un illustratore, questo bozzano, insieme a De Boni, quindi è tutto bibliografato, insomma. Quindi, ritorniamo al caso del dottor Billot, che è continuamente citato in letteratura. Non posso esprimermi dal citarlo a mia volta in questa prima classificazione dei fenomeni di apporto, ma siccome viene sempre citato in riassunto, la mia riproduzione del caso avrà il merito di essere una traduzione integrale della relazione del dottor Billot, del quale, come tutti sanno, ne parla nel libro che abbiamo citato sotto. In tale opera viene riprodotta la corrispondenza intercorsa tra il venerando dottor Billot, quindi aveva una certa età quando gli è successo il celebre magnetizzatore Delues, non so se io in francese non sarebbe François Delues, forse si dice così, che visse tra il 1753 e il 1835, che è stato un naturalista botanico francese interessato al magnetismo animale, diventando magnetizzatore studiando la capacità di guarigione e di chiarovergenza di alcuni veggenti. Ecco chi era, François Delues. Il primo era stato condotto dalle proprie esperienze alla convinzione che tramite il sonnambulismo si riusciva a comunicare con gli spiriti dei trapassati, egli pertanto si adoperava ad infondere nell'animo dell'amico Delues, già scosto profondamente a tal riguardo le sue ferme convenzioni in proposito, e a meglio persuato raggiunse alze alle manifestazioni d'ordine intelligente anche la narrazione dei fenomeni fisici più importanti da lui stesso ottenuti, tra i quali il seguente. Inizia la narrazione in termini. E qua inizia la narrazione. Invoco Dio a testimonianza che quanto mi dispongo a riferire è sacrosanta verità. Una signora colpita da cecità parziale si ricava da qualche tempo a costruire le nostre sonnambule, nella speranza di ottenere un rimedio capace di arrestare il progresso dell'amaurosi, sarà sicuramente una malattia, cioè dovuta a un'alterazione dei nervi ottici della retina del sistema nervoso centrale, quindi è una malattia degenerativa neurologica, che ben presto non le avrebbe più concesso di discernere la luce dalle tenebre. Nella seduta del 17 ottobre 1820 la sonnambula consultata, osservò, ecco, un giovane vergine mi presenta una pianta, è una piena fioritura, io non la conosco, non mi si dice il nome, tuttavia so che questa è la pianta necessaria per la signora affetta da questa malattia. Quindi lui domanda, dove potrò trovarla questa pianta? La stagione è fredda, inoltrata, non esistono piante in piena fioritura in campagna, dovrò forse recarmi e accoglierla molto lontano? Non ve ne preoccupate, risponde la sonnambula, colei che è presente ve la procurerà, ove bisogno vi fosse. In quella, mentre insistevo affinché la giovane vergine mi indicasse in quale località avrei potuto trovare la pianta indicata, ecco la consultante esclamare con accento di grande sorpresa, oh mio dio, hanno deposto una pianta in piena fioritura nel mio grembiule, guardatela, Virginia, che era poi il nome della sonnambula, Virginia, sarebbe forse questa la pianta da voi descritta, sì è proprio quella, rispose la sonnambula, tutti noi dobbiamo ringraziare Dio per questa grazia. Insomma, questo è un apporto, insomma, il racconto di un apporto molto benevolo, perché alla fine questa pianta medicinale si è materializzata in una stagione in cui era impossibile trovarla. Esaminai diligentemente la pianta, era un arbusto somigliante a una pianta di timo, di media grandezza, i suoi fiori labbiati, foggiati a spica, diffondevano attorno a una fragranza aromatica deliziosa, mi parve ravvisare in tale arbusto il timo di creta. Ma da dove proveniva quella pianta, nulla si seppe in proposito, ma ciò che io so molto bene è questo, che io ne posseggo tuttora un ramoscello, che la giovane vergine non mi accordò che dopo lunghe intercessioni. Questo è il magnifico caso di apporto spontaneo occorso al dottor Billot, apporto che non ammette discussioni dal punto di vista della sua autenticità, anzitutto perché si svolse in piena luce, poi perché la pianta portata non apparteneva alla flora della regione, quindi perché la pianta stessa, contrariamente alla stagione inoltrata, era in piena fioritura. Infine, perché se la pianta in parola si fosse trovata in precedenza nella camera, avrebbe tradita la sua presenza a causa della forte fragranza aromatica dei suoi fiori. Fragranza che invade l'ambiente solo al momento in cui la consultante se la trovò in grembo. Quest'ultima circostanza della consultante che si trovò in grembo la pianta senza che nessuno l'avesse vista sovraggiungere o cadere dall'alto dimostra che la pianta si era materializzata nel grembo della signora stessa, circostanza comune alla maggior parte degli apporti osservati in piena luce. Avete ancora dubbio sull'esistenza degli apporti dopo questa testimonianza. Poi qua riporta altri casi, io voglio leggere quello 19 che dura pochissimo e poi ci salutiamo magari per future letture sull'argomento. Caso 19 ebbe a riferire in altro mio lavoro il caso che qui non posso esimermi da riprodurre in cui si tratta di una sonnambola magnetizzata dal dottor J. Larkin, medico degli Stati Uniti, siamo negli anni 1845-47, praticante nella città di Vrenta, Massachusetts. Egli non aveva altro scopo che quello di consultare la sonnambola a vantaggio dei propri malati, ma ben altri portenti non cercati si realizzavano, i quali provocarono fierissima ostilità da parte dell'elemento clericale della regione. Ne eseguirono persecuzioni inaudite al dottor Larkin e all'infelice giovinetta Sonnambola, persecuzioni che iniziano con l'invio di due commissioni d'inchiesta a casa del dottor Larkin. Orbene fu dinanzi ai rappresentanti della seconda commissione d'inchiesta che avvenne il fenomeno di apporto che mi accingo a riferire, fenomeno che ebbe per conseguenza di convincere il ministro della chiesa anglicana incaricato a compierla sull'origine sopranaturale dei fatti. Poi una chiesa anglicana che si pronuncia che lei stessa nasce sul delicatissimo misfatto del divorzio di Enrico VIII, tra l'altro. Quindi si permette pure di mettere bocca in queste cose. Dopo che lei è una chiesa scismatica. Ciò che però non impedì che il dottor Larkin fosse espulso dal consorzio religioso e civile e che l'infelice giovinetta Sonnambola fosse condannata al carcere per negromanzia pure. Tolgo il caso della storia. Vabbè, insomma, lasciamo perdere. Questa è un'infelice pagina. E qua ci sarebbe la legge del Giglio Dorato di Elisabeth Desperanz. Ma questo ve lo lecco in una seconda puntata. Arrivederci.